Vi mostro un tessuto straordinario, in questo caso si tratta di un puro cashmere estivo che ha un effetto veramente unico, è la mano a sentirla, a toccarla, si percepisce la morbidezza, la leggerezza e la freschezza per quanto il cashmere sia ovviamente considerato spesso un tessuto invernale ma in questa versione d'abito è un perfetto prodotto estivo, leggerissimo e davvero piacevole da indossare da notare le rifiniture dei puntini ovviamente tutti interamente a mano sul bavero, sul taschino e sulla spalla e abbiamo scelto di creare per questo abito un abbinamento sobrio abbiamo inserito una fodera di un bel blue navy, bello, scuro, pieno, ricco, sobrio, serio che sta molto bene secondo me abbinato al tessuto stesso e anche all'effetto di questa cravatta con la camicia celeste spero che l'abito e che il video vi siano piaciuti, ci vediamo da Dazzalto grazie